Signore e signori, buonasera a tutti, eccoci qui e benvenuti come ogni lunedì al webinar del lunedì delle ore 18. Io sono Riccardo Zago e in mia compagnia c'è Vincenzo Pena. Buonasera Vincenzo. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti ragazzi, come state? Fatemi sapere un po' in chat, dai. Sì, allora siamo in tanti anche quest'oggi, ringrazio tutte quelle persone che sono state all'evento della settimana scorsa a Milano, lunedì scorso, motivo per cui anche non ho partecipato al webinar e motivo per cui ho tosse e raffreddore da due o tre giorni, perché ovviamente stando sempre a Chiasso, Como e Milano con un tasso di umidità di oltre il 90%, chiaramente sono tornato a Malta con questi problemi di salute. Però a parte queste cose meno importanti direi che ce ne sono di estremamente importanti questa settimana. Per quale motivo? Beh, perché ragazzi questa sarà una settimana di trimestrali, di trimestrali molto importanti che ora vado a condividervi, ecco qui. Dovreste ora vedere anche il mio schermo e quindi oltre, Remo dice vaccino antinfluenziale per Riccardo, no dai quello riesco ancora a non farmelo, devo dire, però stavamo dicendo trimestrali importantissime questo trimestre, chiaramente, per capire un po' come sta andando insomma l'economia. E allora, come potete vedere dal mio schermo, il giorno più importante sarà senza ombra di dubbio, mercoledì e successivamente giovedì, perché Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Mastercard e che cosa abbiamo? Ma Paypal invece è martedì, in realtà c'è anche Google, c'è anche Visa, insomma abbiamo veramente tutti i colossi più importanti questa settimana, in video invece sarà la settimana non quella prossima, quella dopo ancora. Quindi molta attenzione perché ci si aspetta altissima volatilità anche perché questa settimana non solo c'è la trimestrale ma venerdì ci sono anche i non farm payroll come ogni primo venerdì del mese e anche lì cercheremo di capire dopo aver visto i conti delle aziende più importanti al mondo anche come sta l'economia del lavoro degli Stati Uniti. Quindi settimana interessantissima, oggi magari andiamo a vedere un po' di titoli che potrebbero insomma subire delle oscillazioni importanti partendo ovviamente da un titolo che abbiamo condiviso, anzi insomma abbiamo fatto un video insieme, anzi lo ha fatto Vincenzo, un ottimo video devo dire, e sto parlando proprio, vedete qui, di questa azione PayPal, eccola qui, PayPal che in silenzio continua a segnare nuovi massimi di periodo. Ora vado a condividervi lo schermo, eccoci qui, del mio conto Thrive che quest'anno ho usato per fare un po' di accumulo su ebit, però poi è stata anche l'occasione di invidia di cui poi dopo parleremo. Però quello che vediamo qui ora è il grafico di PayPal, che dopo aver lateralizzato per tutti questi mesi ha rotto con forza la soglia dei 76, quindi la rottura dei 76 dollari per azione è stato un segnale molto rialzista. Scusate che ho delle pagine in più, eccoci qui, e ogni fase di ritracciamento a mio avviso è un'occasione di acquisto, anche perché ricordiamoci che questa azienda dopo il cambio di management ha decisamente avuto un cambio di rotta anche sugli utili che sono tornati a crescere insieme al fatturato rispetto all'ultima trimestrale e in generale abbiamo un'azienda che sembra ancora sottovalutata dell'84,42%, personalmente il mio obiettivo è raggiungere la soglia almeno dei 100 dollari per azione essendo entrati a 59, insomma non andiamo a fare il 100% ma un buon comunque risultato sotto il profilo della solidità è messa comunque bene, non benissimo ma si sta riprendendo abbiamo un'azienda che è in pieno buyback, continua a ricomprare le proprie azioni, insomma anche sotto il profilo della value generation è un'azienda che continua a rimanere all'interno del nostro portafoglio e che abbiamo individuato grazie anche al Forecaster Terminal, tra l'altro ragazzi se andiamo a vedere l'overview ci accorgiamo che è vero, con questa funzione innanzitutto potete fare che cosa? potete mettere sulla stessa scala, sulla stessa scala il prezzo e il fatturato, che cosa è successo? Che il fatturato è continuato a salire ma cosa è successo? L'anno scorso, 2023, il profitto si è dimezzato, meno 50% ed è questo l'unico motivo, l'unico comunque tanti motivi hanno portato a ovviamente un ribasso del 50% degli utili che ha portato ovviamente a un ribasso anche di più del 50% del prezzo NetIncan che però come potete notare è tornato piano piano a salire questa è la prima azienda che domani presenterà i conti, quindi molta attenzione se dovesse ritracciare del 5-6% o comunque ritornare come abbiamo visto sui livelli chiave non solo tecnici, importanti non solo a livello tecnico ma anche volumetrico beh, tutta la soglia che è un ruolo tra i 75 e i 70 dollari per azione secondo me, non so tu Vincenzo che cosa ne pensi un ritorno su quelle zone potrebbe rappresentare un'opportunità di acquisto Sì, infatti poi rispondevo anche, voglio rispondere anche a Remo che ci chiede che cosa è atteso poi dagli analisti per le trimestrali per quanto riguarda il fatturato è atteso un aumento del fatturato di circa il 7% quindi dovremo arrivare all'incirca, lo sto leggendo adesso a 7,88 miliardi di dollari di fatturato per il Q3 2024 rispetto agli EPS ovviamente è leggermente meno rispetto alle aspettative ma era naturale visto che comunque il titolo sta soffrendo tra virgolette ancora dei prezzi al di sotto invece di quella che è la media degli ultimi anni quindi ci sta che l'EPS sia leggermente in discesa però tutto sommato la trimestrale dovrebbe essere positiva per PayPal questa dovrebbe essere la prima trimestrale dove iniziamo a vedere qualcosina che cambia anche dal punto di vista degli utili quindi del margine netto e come dicevi tu effettivamente sarebbe veramente stupendo poterla ricomprare magari dopo un ritracciamento a 75-76 dollari per azione ma vedendo un po' come si sta comportando vedendo le trimestrali di domani che probabilmente saranno positive secondo me non ce lo darà questa gioia non ce la darà un ulteriore ingresso purtroppo mi sa che non ce lo darà però se dovesse effettivamente missare le aspettative degli analisti domani beh magari un bel crollo improvviso e poi di riassorbimento si potrebbe effettivamente fare qualcosa però la soglia è quella che hai detto tu quindi al massimo quei 76-77 dollari per azione ma proprio complicato che possa arrivarci 70 già sono secondo me un po' fuori portata al momento benissimo allora dopo il titolo Paypal secondo me dobbiamo accennare comunque al dobbiamo insomma parlare un po' del mercato cinese che oggi sta performando bene soprattutto sull'automotive con NIO per esempio che sta facendo un bel 12,5% e parlare ovviamente anche di quelle aziende legate al mining di bitcoin o comunque alle criptovalute con Marathon Digital su cui insomma abbiamo investito e quindi voglio anche aggiornare quella posizione lì prima però voglio ricordare a tutti che questa è una settimana importantissima anche per gli appassionati di trading dei trading di più di breve termine perché guardate qui offerta speciale avete altre 23 ore 47 minuti e 50 qualcosa secondi per approfittare della promozione che è la seguente 50% di sconto sul nuovo corso che inizierà domani quindi insieme a Vincenzo Penna trading con la volatilità quest'anno non abbiamo fatto nemmeno un corso perché siamo stati tutto l'anno a studiare un metodo una strategia comunque operativa che potesse non solo riempire la giornata classica dell'operatività che va insomma dalle pomeriggio dalle 15 e 30 fino alle 17 piuttosto che dalle 9 fino alle 13 ma anche come potete vedere dal titolo dalle ore 18 alle ore 22 e allora Vincenzo domani inizia il tanto atteso corso cosa cosa ci racconti qui abbiamo tre indicatori in regalo che ci avviseranno quando sarà il momento di operare giusto? Sì giustissimo io che ti racconto che non sto dormendo la notte per preparare il corso quindi semplicemente questo quindi chi ha acquistato il corso ovviamente vi ringrazio tantissimi ma avrete comunque ancora tempo tra stasera e domani per potervi accedere ci sono appunto i tre indicatori che sono gli indicatori che ci serviranno sicuramente per l'analisi le strategie sono tre, tre strategie operative sono due per l'intraday e una per i multiday basate appunto sulla volatilità attesa giornaliera e settimanale e spiego appunto che gli strumenti più utilizzati sono ovviamente abbiamo fatto backtest eccetera sono gli indici americani quindi S&P 500 e Nasdaq 100 tra tutti e il gold il gold veramente fa paura con questa strategia soprattutto perché è una sorta di jolly che si può utilizzare sia a chiusura ai mercati europei sia a chiusura ai mercati americani e come diceva Riccardo visto che comunque nel corso degli anni abbiamo sentito tanti tantissimi di voi che effettivamente ci seguono tutti i giorni c'era un bisogno pazzesco di un qualche tipo di strategia tra virgolette semplice ovviamente non è mai tutto semplice però l'abbiamo cercato di rendere semplice tramite gli indicatori che andasse ad operare e che andasse a sfruttare delle anomalie statistiche e di appunto volatilità che si vengono a creare dopo le 18 quindi banalmente tutti quanti possono fare trading dopo le 18 perché appunto magari si torna da lavoro ci si mette sul grafico tempo una mezz'oretta, un'oretta in base a quelle che appunto sono le strategie operative si entra al mercato e poi il grosso è fatto cioè una volta che avete messo stop loss e target non dovete fare assolutamente più nulla quindi in quella fascia lì ci siamo impegnati abbiamo cercato di sfruttare e creare appunto una strategia che sarebbe che è sicuramente e sarà sicuramente utilissima a tutti quanti poi magari se mi vuoi condividere lo schermo faccio anche vedere qualche esempio a grafico Assolutamente sì, ti passo lo schermo nel frattempo ho condiviso con tutti voi il link per andare a vedere il programma se ovviamente poi avete delle domande non esitate a scriverci sulla chat del sito detto ciò assegna ruolo relatore e puoi andare eccoci qui allora parto da un esempio che è successo proprio oggi bello fresco fresco stai vedendo lo schermo giusto sì? sì esempio fresco fresco sul forex perché spesso anzi parecchi di voi ci hanno chiesto se questa strategia era adatta anche al forex ho risposto di sì molto di più su multi day e un po' meno sull'intraday perché la differenza è semplicemente che il forex si muove di meno quindi è meno volatile essendo meno volatile magari non ti dà il massimo per l'intraday però quei pochi cambi che godono di alta volatilità come ad esempio USD, JPY, dollaro, yen giapponese oggi lo potete vedere si è comportato alla perfezione quindi abbiamo dato ci ha fornito il long fino al livello massimo di volatilità giornaliera a 153,91 e ci ha fornito il minimo livello di volatilità giornaliera a 152,62 quindi qua ci potevamo prendere sia il long che lo short che poi il long successivamente dopo aver raggiunto il livello minimo giornaliero quindi è un esempio veramente lampante di quanto sia veramente molto molto semplice estremamente semplice andare a fare questo tipo di analisi questo tipo di approccio questo tipo di operazione tutti i giorni perché ovviamente è un qualcosa di sistematico che vediamo sul dollaro yen vediamo sul nasdaq vediamo sull'S&P vediamo sul DAX vediamo sull'euro dollaro tra l'altro sul nasdaq volevo farvi vedere proprio un approccio effettivo diciamo ufficiale di quella che poi sarebbe stata la nostra strategia operativa cogliendo diciamo l'opportunità che collora indietro le 17 sarebbero le nostre 18 che poi cambieranno di nuovo settimana prossima perché si opera appunto dalle 18 che cosa è successo al nasdaq si è andato a prendere un qualsiasi grafico alle 18 eravamo più o meno in questa scusate le 17 che sarebbero appunto le 9-18 del settimana prossima eravamo più o meno in questa circostanza qui poi all'interno del corso spiego come sono tanto tanto importanti anche i volumi infatti qua sopra c'è un cluster volumetrico incredibile e da quella struttura lì vedendo che la volatilità giornaliera era ben distante dall'essere raggiunta mi potevo semplicemente piazzare short stop loss poi decidiamo in base un po' alla strategia che vi farò vedere nel corso e il target in linea di massima può essere appunto il livello massimo di volatilità raggiungibile giornaliera quindi in questo caso del nasdaq 20.260 quindi tempo zero io mi metto sul grafico ho il mio indicatore di volumi ho il mio indicatore di volatilità mi faccio ovviamente l'analisi in base alla checklist operativa che poi vi mostrerò all'interno del corso se quel particolare strumento mi dà quei segnali operativi entro se non mi dà che sono ovviamente segnali oggettivi non entro quindi anche qui c'è l'oggettività nella strategia e poi una volta commesso l'operazione poi a seconda un po' del rischio di rendimento una 1, una 2, una 3, quel che è io ho fatto tutto ho messo lo stop ho messo il target posso anche chiudere e andarmene a casa qui semplicemente con quella che era appunto la strategia diciamo dell'approccio leggermente più aggressivo eravate già usciti con rischio di rendimento di 1 a 1 e avevate già fatto tutto quello che dovevate fare sul Nasdaq e ovviamente S&P il Nasdaq vi danno sicuramente un approccio e un trade per ogni giorno il DAX ve ne dà un altro giorno dopo giorno quindi almeno due trade per giorno uno per sessione europea e uno per sessione americana la sera ovviamente per sessione americana intendo dopo le 18 lo trovate sempre poi il Forex è un discorso a parte e lo si gestisce in multi day come diceva Riccardo e poi Giuda e ti passo di nuovo la parola c'è anche l'alert che vi avvisa quando vengono toccati questi due livelli quindi qui praticamente io stamattina sono stato stamattina a ora di pranzo sono stato avvisato che qui effettivamente il prezzo ha toccato il livello massimo di volatilità e si procedeva con la strategia di inversione che appunto poi spiegherò nel corso e che ha altro checklist a parte che è un po' leggermente un po' più aggressiva però comunque ci sono gli alert sia per cellulare che per la metatrader quindi veramente non avete scuse per non operare per non farlo nel migliore dei modi tutto qua benissimo quindi ovviamente se anche voi volete avere una strategia profittevole utile e vi serve operare dalle ore 18 alle ore 22 o dalle 20 alle 22 insomma questa fa assolutamente per voi ovviamente ovviamente ci sono un po' di domande questi indicatori si possono usare su tradingview la risposta è no questi indicatori che noi e sono nostri i proprietari di investire.biz funzioneranno solamente con il broker con il broker drive mi riprendo lo schermo eccoci qui mi riprendo lo schermo vediamo se allora un attimo eccoci qui stavo dicendo gli indicatori funzioneranno solo con il broker drive che è il broker partner con cui noi trader di investire.biz collaboriamo e una cosa secondo me importantissima diamo anche tutta l'assistenza in italiano quindi io Vincenzo e tutto il team Giorgio Cristian Luigi eccetera eccetera diamo tutta l'assistenza possibile sia sul fronte trading che sul fronte investimenti perché comunque ci sono due tipi di conto differenti proprio e quindi ragazzi insomma se volete partecipare ricordatevi che il 50% di sconto è valido fino a domani fino a domani vi ho già mandato il link in chat insomma poi fatevi un giro e ci sono tantissime informazioni quindi trovate tutto qui nella pagina del nella pagina del corso ora io rispondo un attimo a Gaetano al volo perché mi dice c'è la possibilità che questa strategia non funzioni più in futuro ti direi di non nell'immediato futuro perché è un qualcosa che è cambiato tipo negli ultimi due due tre annetti quindi non è che stiamo parlando di un qualcosa che è cambiato da tanto tempo quindi al netto ovviamente lo sappiamo i mercati cambiano cambiano spesso cambiano però comunque per cambiare serve effettivamente un po' di tempo in più quindi non cambierà sicuramente nell'immediato anche perché c'è una vera struttura cioè c'è una struttura forte del perché poi il prezzo fa determinate cose dopo le ore 18 infatti poi lo spiegherò l'ho spiegato sia nel nel video di presentazione ci entrano le opzioni ci entrano le opzioni di zero DTE magari vattelo a riguardare quindi quella roba lì è veramente qualcosa di molto molto fresco e non cambierà dall'oggi al domani quindi ci vorrà un po' di tempo benissimo benissimo passiamo ora torniamo al torniamo alle azioni velocemente prima però che cosa volevo di che cosa volevo parlare si avvicinano le elezioni e come ben sapete come ogni campagna elettorale negli Stati Uniti insomma ci sono grandissime donazioni sia dalla parte dei delle delle aziende stesse ma anche insomma dei dipendenti all'interno delle aziende e giusto per farvi così giusto per insomma osservare un po' ci accorgiamo di che cosa ci accorgiamo che i donatori i donatori del partito le donazioni del partito al partito democratico arrivano per lo più da dipendenti di Google Netflix e Microsoft per citarne solamente tre e anche Apple dei repubblicani invece anzi vado a fare un po' più di zoom eccoci qui abbiamo prima abbiamo prima in classifica Blackstone e successivamente abbiamo Palantir e poi anche altre aziende ed anche Interactive Brokers questo però non vuol dire che le aziende finanziano direttamente la campagna la campagna elettorale del insomma dei due partiti da una parte Kamala Harris per i democratici e dall'altra Donald Trump per i repubblicani però e questo è insomma un bello spaccato che ci fa capire chi all'interno delle aziende sta da una parte o dall'altra detto ciò però ricordiamoci anche che se andiamo a prendere dov'è che è forse è qui eccolo qui se andiamo su questo sito che insomma ci fa vedere chi sta finanziando la campagna elettorale ci accorgiamo che per esempio se andiamo su tantissime aziende quindi qui vediamo company donations e qui invece vediamo company employee donations quindi i dipendenti delle aziende ma se andiamo sulle aziende quindi proprio come azienda vado a finanziare uno o l'altro partito ci accorgiamo che vedete sono più o meno uguali insomma abbiamo circa il 50% da una parte 50% dall'altra infatti anche se andiamo a vedere google o anche walmart per esempio abbiamo 44% democratici 56% repubblicani insomma diciamo che ovviamente le aziende insomma non si espongono da una parte e dall'altra la stessa la stessa google abbiamo comunque 50% democratici e 50% praticamente repubblicani la stessa cosa su JP Morgan JP Morgan che si sbilancia ma veramente leggermente sui repubblicani quello che cambia molto però invece come abbiamo potuto notare sono le donazioni dei dipendenti che poi bisognerà anche vedere chi sono questi dipendenti magari anche i CEO o quant'altro ecco su google abbiamo un 91% di finanze di donazioni ecco ai democratici quindi Kamala Harris a Netflix invece pensate addirittura il 99,95% Microsoft 83,16% e via così Palantir invece azienda molto più piccola ovviamente 67% repubblicani ricordiamoci ricordiamoci però che qui non la troviamo ma c'è anche l'America PAC del nostro amico Elon Musk che aggiornamento recente vedete ha insomma donato oltre 118 milioni di dollari 118 milioni di dollari i soldi arrivano proprio da queste PAC da queste associazioni che servono proprio a finanziare i partiti politici quindi dalla parte repubblicana abbiamo persone come Elon Musk dalla parte dei democratici abbiamo persone come Bill Gates che non ha non è che abbia donato poco perché se non sbaglio siamo intorno ai 75 80 milioni di dollari ecco quindi insomma abbiamo questo spaccato ma che cosa è successo quattro anni fa quattro anni fa in realtà poi anzi quando aveva vinto quando aveva vinto Trump quattro anni prima ancora in realtà non è che siccome magari Bill Gates aveva finanziato il partito democratico e non quello repubblicano allora le aziende quelle azioni le azioni di Microsoft sono scese assolutamente no l'economia americana ha continuato a performare molto molto bene e tutte le azioni sono salite sostanzialmente in questo caso però abbiamo un Elon Musk un po' matto che diciamo insomma entra a gamba tesa sulla politica e anche grazie a i suoi social o comunque ha il suo potere mediatico si espone molto a favore di una o dell'altra parte e questo potrebbe comunque anzi aumenta senza ombra di dubbio il rischio operativo di rimanere dentro un'azienda come a livello di investimenti come Tesla perché è vero che se dall'altra parte se insomma da una parte la vittoria dei repubblicani quindi di Donald Trump a mio avviso porterebbe nel brevissimo termine secondo me anche con un by the rumors and sell the news le azioni Tesla a salire tantissimo dall'altra parte insomma con tutti i vari attacchi che sta facendo secondo me la vittoria dei democratici potrebbe pesare sempre nel breve termine sto parlando sulle azioni sul prezzo delle azioni di Tesla motivo per cui insomma direi di monitorare questo titolo abbiamo fatto di recente un video su Tesla e infatti parliamo anche di questo un titolo molto discusso come sempre soprattutto in questo periodo con Elon sempre sotto i riflettori che tra l'altro ha deciso di regalare un milione di dollari a caso al giorno a chi voteva Trump ma parlando di cose più serie a mio avviso dobbiamo comunque ricordare che è uscita la trimestrale di Tesla diciamo che Tesla ha dato insomma ha pubblicato dei risultati molto interessanti andiamo a vedere insieme se volete andare a vedere un qualsiasi tipo di trimestrale basta andare sul sito ufficiale e andare sotto la sezione investor relation vi assicuro che se andate nella sezione di Tesla investor relation avrete le idee molto più chiare che se andate sotto la pagina investor relations di Eni o Enel che non si capisce nulla quindi visto che stiamo parlando di Tesla direi che possiamo andare a vedere questa bellissima release per insomma vedere quali sono i punti salienti di questo Q3 2024 di questo titolo andiamo direttamente sui grafici senza che vi sto qui a far vedere numeri e numeri e numeri ovviamente la parte che mi interessa di più come dico sempre è la parte dedicata all'energy generation and storage non solo alla parte automotive che comunque è andata bene vedete Q3 2024 anzi no scusate andiamo sul ecco qua total automotive revenues eccoci qui 20 20 miliardi in rialzo rispetto a quella precedente e in realtà in rialzo di pochissimo rispetto a del 2% rispetto a quella del Q3 del 2023 la cosa interessante è che è aumentato del 52% anno su anno come dicevo prima le revenue da energy generation and storage oltre che del 29% la parte dei servizi quindi sta aumentando in maniera anche abbastanza decisa stanno aumentando in maniera anche abbastanza decisa altri tipi di business per il momento tiene però anche l'automotive e infatti in generale abbiamo comunque un total revenues che è aumentato dell'8% su base annua scendendo ci accorgiamo anche che guardate qui più che la model 3 che non è cresciuta più che le vendite della model 3 che non sono cresciute di così tanto solamente del 6% che cosa è cresciuto è cresciuto di molto la vendita degli altri modelli uno su tutti il cyber track che quindi ha portato insomma a un aumento del 91% su base annua quindi rispetto all'ultima trimestra alla terza trimestra del 2023 ora volevo farvi vedere eccoci qui un'altra parte estremamente interessante ecco qui vedete come aumenta notevolmente il gross profit della parte energy storage deployment ok ecco qua continua ad aumentare trimestrale dopo trimestrale ovviamente c'è stato un massimo un massimo nella trimestrale precedente però questa devo dire che è andata molto molto bene e di questo passo la percentuale di fatturato che Tesla avrà dagli altri business aumenterà notevolmente io ho fatto la previsione all'inizio dell'anno che seguendo poi anche alcuni studi che sarebbe passato da un che il fatturato degli altri business sarebbe passato dal 3,85% a un 10 circa e ci siamo quasi infatti e secondo me continuerà ad aumentare fino ad arrivare addirittura a un 50% nei prossimi 5 anni però staremo a vedere sostanzialmente perché per il momento sta crescendo ma ovviamente più un business cresce più farà fatica a crescere ulteriormente ed esponenzialmente comunque vi lascio anche il link per guardare questa bellissima release che Tesla fa in maniera eccellente si capisce tutto benissimo ve lo lascio qui e cos'altro volevo vedere se saliamo se saliamo un po' insomma c'è anche la parte dedicata all'intelligenza artificiale software e hardware infatti vendendo sempre vendendo sempre più macchine Tesla raccoglie sempre più dati più dati raccoglie più diminuiranno i tempi per l'approvazione della guida autonoma completamente autonoma e vediamo che insomma è aumentato esponenzialmente guardate qui nelle ultime nelle ultime trimestrali e la previsione è che insomma le miglia guidate con l'FSD tra parentesi supervised che cosa vuol dire full self driving guida autonoma completa ma con ovviamente l'obbligo da parte del conducente di mettere a posto toccare ogni tanto il volante ecco perché non è ancora dal livello da 1 a 5 per la guida autonoma siamo a 3 quindi manca ancora un pochettino devo dire però Tesla è davanti a tutti quanti quindi molto bene sia per il comparto per il comparto auto bene ma non estremamente bene molto bene invece per quanto riguarda lo sviluppo della guida autonoma molto bene anche per quanto riguarda la parte energy generation e storage ora andiamo sul grafico per vedere quali sono i livelli e poi mi dici che cosa ne pensi anche perché mi ricordo che te Vincenzo avevi fatto un video proprio su Tesla e eravamo insomma long dalla soglia dei 160 170 dollari per azione con il rialzo della scorsa settimana qui siamo pronti a rompere soprattutto con questo dopo questa candela estremamente rialzista la soglia dei 280 si tra l'altro la candela che ha fatto segnare mercoledì o giovedì adesso non ricordo è stata la seconda candela quindi la seconda chiusura giornaliera più forte della sua storia ha fatto segnare mi pare un 21,92% un cosa del genere giorno su giorno e si deve tornare indietro ovviamente di anni e anni per vedere una stessa candela di queste dimensioni perché? perché come dicevi tu le trimestrali sono state ottime non tanto i diciamo i i dati che hai fatto vedere tu ma quanto la guidance quindi quanto le aspettative future per l'azienda perché l'abbiamo detto più volte Tesla non è un'azienda che si occupa solo di automotive l'hai detto tu prima anche con lo storage la parte dello storage poi c'è tutta la parte della robotica che adesso non si riesce neanche a dare una stima effettiva di quale potrebbe essere il mercato futuro e poi Elon Musk cilergina sulla torta si è aperto anche alle macchine volanti quindi se proprio vogliamo dirla tutta ha creato veramente tanto hype anche per il futuro di Tesla e secondo me la parte che più ha fatto piacere al mercato è stato l'annuncio del di un modello più economico di un paio di modelli più economici per Tesla che potrebbero effettivamente stare alla pari quantomeno giocarsela con gli stessi modelli di cinesi con gli stessi modelli asiatici e quella roba lì il mercato secondo me l'ha vista anzi secondo me vedendo il grafico anche secondo tutti il mercato l'ha vista in maniera molto molto positiva quindi ha dato un ulteriore fiducia a Tesla che effettivamente era un po' stata persa negli ultimi negli ultimi mesi benissimo allora direi che possiamo andare a vedere anche un altro paio di titoli prima di prima di salutarci vediamo che tipo di qua ti chiedono Marathon però ah sì giusto fermi tutti perché io ho fatto un video su Marathon Digital allora ma Marathon non si parla più ma come Lorenza ne parlo ogni settimana parlo in continuazione di Marathon Digital cioè non ho capito allora ho fatto anche un bel video su YouTube se Vincenzo lo vuoi girare dove spiego perché allora io personalmente nel mio conticino ce l'ho da 9 dollari per azione ma ho fatto un video su investire.biz perché abbiamo deciso a investire.biz di entrare in posizione sul titolo Marathon Digital da 15 dollari 15 e 50 dollari per azione questo è il titolo fu drive lo trovate come Marathon Patent Group negli ultimi giorni è salito è salito anche abbastanza questo titolo è un titolo estremamente speculativo perché ricordiamoci che vi do un dato incredibile che quando ho iniziato a studiare bene dei bilanci il costo del fatturato tutte queste cose qui ho detto ma come è possibile Marathon Digital fin quando Bitcoin non arriva a 88 mila dollari mina in perdita molto giusto per chiuderla in maniera semplice quindi attenzione è un titolo che potrebbe andare a 32 anche a 50 se Bitcoin dovesse andare a 120 mila dollari quindi a fare dei rendimenti estremamente importanti ma se questo non dovesse accadere attenzione perché stanno lavorando in perdita è vero che hanno messo via un po' di cash prima dell'halving in quanto minavano con un ottimo profitto infatti sono presi un po' di cash per far fronte a questi mesi di difficoltà se Bitcoin come secondo me succederà arriverà al di sopra degli 80 mila dollari se siamo entrati su Marathon a 15.50 saremo estremamente felici è ovviamente un business che per il momento sta soffrendo perché non è PayPal non è Nvidia non è Tesla è un'azienda che per il momento mina Bitcoin in perdita quindi ecco non il meglio dell'efficienza finanziaria ma potrebbe beneficiarne vista l'altissima volatilità di Bitcoin e anche vista insomma la previsione di un Bitcoin a 100 mila dollari nel prossimo periodo quindi manteniamo le nostre posizioni da 15.50 attenzione perché se Bitcoin dovesse tardare un po' potremmo rivederle in area 12 dove abbiamo un altro ordine pendente quindi basso rischio perché c'è sì un potenziale basso rischio a livello di esposizione perché c'è un alto c'è un potenziale rendimento molto importante ma anche il rischio poi sul capitale è molto alto quindi bella azienda se Bitcoin torna sopra gli 80 mila altrimenti attenzione allora ci vuole coraggio a tenere Mara Remo dice io non so che fare dipende la tua view su Bitcoin molto semplice non devi avere nessun'altra pensare a nient'altro quindi ovviamente bisogna tenere sempre d'occhi i conti e quant'altro ma devi avere una view chiara su Bitcoin pensi che Bitcoin possa scendere a 30 mila vendi assolutamente adesso Marathon Digital pensi che nel prossimo periodo anche insomma trainato da questa incertezza anche a livello mondiale e pensi che comunque Bitcoin possa oltrepassare i suoi massimi storici e stabilizzarsi sopra gli 80 mila per poi raggiungere i 100 mila dollari bene tieni il titolo Marathon Digital queste sono le uniche due cose a cui devi pensare non vuoi prenderti il rischio ti piace di più l'asset perché è meno rischioso perché lo è non comprare Marathon Digital vai sull'asset di riferimento che è Bitcoin pace grazie e arrivederci bene direi che per oggi abbiamo visto tutto Vincenzo volete aggiungere qualcosa? no 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 assolutamente nulla sono d'accordo con te con la vanno a braccetto Bitcoin Marathon e tutte le altre aziende che si occupano di mining devono per forza andare a braccetto col prezzo di Bitcoin e quindi dobbiamo votare Trump eh sì esatto anche lì attenzione ragazzi secondo me anche se va su Kamala Harris la mia view cioè quello che penso è che comunque gli Stati Uniti si terranno stretti il comparto delle criptovalute per ovviamente trarne eh maggior valore possibile al contrario dell'Italia che fa delle mosse fantastiche come raddoppiare quasi la tassazione ma eh su questo potremmo fare un discorso che durerà che durerà ma non passerà non passerà in Parlamento eh parecchi partiti non sono d'accordo io sono convinto che non passerà vediamo vediamo staremo a vedere ah un'altra cosa chiudiamo con invidia ragazzi dove come sapete abbiamo comprato comunque eh queste ce le ho anche sul conto drive un po' a 104 secondo me eh io ho un titolo ho un target a 160 dollari per azione ma attenzione fermi tutti prima di andare via io mi aspetto in concomitanza delle elezioni americane andiamo a vedere un grafico dell'S&P 500 io mi aspetto ragazzi se non sarà questa sarà la prossima non lo so eh non apro nuove posizioni rialziste perché mi aspetto una breve flessione una flessione che possa diciamo eh andare dai livelli attuali fare un due e mezzo massimo 5% ecco mi aspetto questa breve flessione nelle prossime settimane eh e quindi non compro nulla adesso ma mi preparo la liquidità per andare ad acquistare sulle fasi di debolezza che secondo me ci saranno questa settimana la prossima appena dopo le elezioni insomma secondo me un po' di turbolenza ci sarà saranno delle ottime occasioni di acquisto perché poi insomma il mese di novembre e di dicembre soprattutto quello eh durante le elezioni insomma sappiamo che storicamente è stato sempre un mese di eh anzi un paio di mesi di grandissime grandissime performance bene vincenzo grazie mille per aver partecipato anche quest'oggi e noi ci vediamo ragazzi domani sera al corso trading con la volatilità mi raccomando dalle 18 alle 22 benissimo esatto ragazzi ci vediamo buonasera a tutti ci vediamo domani sera ciao